e per tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che sono a mod 13 e oggi siamo in minecraft episodio 3 ok andiamo subito nel mondo andiamo eccolo qui aspetta ok continuo a giocare offline ok qui era come ci siamo lasciati e continuiamo ad andare in miniera noi c'è alla fine aspetta dov'era non mi ricordo perché in questo mondo si perdono facilmente le miniere ecco l'acqua ho visto ok eravamo arrivati qui senza trovare alcun minerale c'è mancò carbone no ho sbagliato ragazzi scusate ok significa che c'è una miniera speriamo almeno non è sicuro però noi ci speriamo scusate se sentite i miei fratelli non mi dirò che vuoi cioè che spostamento di cose ok troviamo meno al carbone mamma mia ok ok perro buonissimo niente carbonimo troviamo subito il ferro ottimo ottimo ragazzi quattro di ferro buonissimo stupendo che poi così è questo altro ferro non vedo un cavolo aspetta la mappa l'ho lasciata troviamo i diamanti con la piccozza di pietra l'ultima torcia e poi la prendiamo in quel posto lo fare così per forza ok ok però intanto abbiamo trovato 5 di ferro l'ultima torcia ora rilascia nella cesta in caso ok aspettate si era buggato un attimo il gioco e ok prendiamo un attimo la mappa lascio queste cavolate minerale di ferro soprattutto ora dormiamo però intanto prendiamo il legno ne prendiamo pari ragazzi perché facciamo la metà si cuociono si cuociono e l'altra metà li facciamo con gas diciamo ok ne prendiamo 16 pure 18 17 18 19 20 20 me lo spiegherò in caso mostri in casa e non proprio in casa però ok aspettiamo ragazzi aspettiamo un po' qua è passata mezzasera non se ne è fatto manco uno c'è guardate voi un po' intanto noi cioè io taglio ragazzi non è che devo aspettare perché si cuociono sei di quelli cioè alla fine ok ok ecco casa ok ok ragazzi no perché ora ora e dai chi c'è dico ma pure tu va a morire male pezzo di merda ora ok ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like commentate iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci becchiamo al prossimo video bella raga bella raga ciao